Ciao a tutti ragazzi, buon weekend. Una parola, lo sapremo solo alla fine, se sarà stato buono o meno, se sarà stato buono, se sarà stato cattivo, se sarà stato medio. Lo scopriremo alla fine del weekend. Oggi parliamo di un Milan Cagliari per il quale non si può parlare solo di Milan Cagliari. Siamo in un sabato sera freddo, sabato sera 19 febbraio 2005. Che sabato sera sarà il 19 febbraio 2005? E' un sabato sera che arriva dopo un inizio anno molto, molto, molto contrastato. Il Milan a gennaio si era allontanato molto dalla Juventus, avevano polemizzato su un autorete di Iankulowski, ma il Milan aveva battuto l'Udinese 3-1, ma quel codazzo di polemiche era andato avanti. Livorno, prima giornata di ritorno, Livorno vince 1-0. C'è un rigore di Amelia Sushevchenko che oggi l'arbitro non va neanche al bar. Rigore, netto. Ma non viene dato. Nella partita successiva, arbitro De Santis, c'è un Milan-Bologna-San Siro in cui Doraso fa un gol fantastico, meraviglioso all'incrocio dei pali. Annullato, lo sai tu perché? Non lo so, non ho capito ancora oggi. E quindi il Milan era in ritardo. Poi inizia il mese di febbraio, fra poco arriviamo a Milan-Cagliari. Milan-Cagliari che nel 2021 invece verrà presentata con grande copertura anche da OneFootball, che vi ricordo e vi segnalo. OneFootball sostiene l'attività di questo canale YouTube. OneFootball ha un'app bellissima, dinamica, connessa, che vi offre anche partite, finali, eventi, live, calcio internazionale, la Coppa di Germania appena conclusa. L'app di OneFootball la potete scaricare direttamente e gratuitamente dalla descrizione di questo video. Non ve ne pentirete, come si dice in questi casi. Quindi torniamo al 2005. Prima di arrivare a Milan-Cagliari ce n'è da fare di strada per il Milan. Il Milan aveva un ritardo dopo le due sconfitte contro Livorno e Bologna di otto punti dalla Juventus. La squadra va a vincere a Messina, 4-1 e lì nessuno dice nulla. Poi c'è una vittoria in casa con la Lazio, 2-1 per il Milan. La Lazio era anche segnato su rigore, era stato dato anche un rigore a favore della Lazio. Però dall'altra parte la Juventus di Moggi, la Juventus che è di capello, la Juventus che non perdeva occasione per ironizzare e buttare ombre e veleni su ogni cosa che ricordava il Milan, si era inventata, vi ricordate, il gol di Kulovic, perché era arrivato da parte di Crespo nei minuti di recupero nel finale di gara. Poi la partita dopo il Milan va a Reggio Calabria, vince 1-0 con un autorete giocando male. Adriano Gagliani capisce l'antifona, dice prima che mi facciano polemica ancora per l'autorete come è accaduto per Milan Udinese, faccio io una polemica. Adriano Gagliani iniziò a dire che Carlo Ancelotti, il nostro allenatore, doveva trovare delle alternative migliori quando non c'è Pirlo, perché quella partita era assente Pirlo e il Milan aveva il problema del vice Pirlo, non c'era, il Milan perdeva alcune caratteristiche importanti salienti del suo flusso di gioco quando non c'era Pirlo e Gagliani polemizzò col suo allenatore. Non voleva polemizzare col suo allenatore Gagliani, voleva semplicemente creare un diversivo. La Juventus era andata su, molto su a gennaio, ma a febbraio a sua volta faticava e da Reggio Calabria a Milan Cagliari il passo è breve. Il Milan va in campo conoscendo il risultato della Juventus, che era giocatore 18. La Juventus aveva pareggiato a Messina 0-0. Quindi se il Milan avesse battuto il Cagliari avrebbe raggiunto la Juventus in testa alla classifica a quota 54 punti, diciamo annullando gli effetti negativi delle due sconfitte contro Livorno e Bologna. Milan-Cagliari è una partita che sembra subito mettersi di traverso perché dopo pochi minuti si infortuna Shevchenko. Frattura allo zigobo, mandibola da operare, verdetto durissimo. Il Milan giocava di sabato sera perché il martedì doveva andare a Manchester, oltrefford, andata degli ottavi di finale di Champions League. L'entrata di Loria, difensore centrale del Cagliari, su Shevchenko arriva a menomare nettamente il Milan. Carlo Ancelotti lì per lì mette Hernan Crespo in campo, ma la coppia fra Crespo e Thomasson non era una coppia che riusciva a integrarsi tatticamente come feeling al meglio. Per cui il Milan fa fatica, il Milan attacca, il Milan crea occasioni, ma, altro indizio negativo, alla mezz'ora della ripresa viene espulso Pancaro, dimostrazione che, insomma, non è che gli arbitri favorissero il Milan e mettessero petali di rose sulle partite del Milan. Viene espulso Pancaro e il Milan rimane in 10 contro 11. E adesso? E adesso il Milan non può fare altro che continuare ad attaccare. Il Cagliari aveva tolto un centrocampista, l'uruguayano Abejon, Abe era il soprannome per i tifosi sardi, e aveva messo al suo posto David Suazo, quindi un attaccante. Il Cagliari voleva provare a vincere la partita. Ma il Milan tiene botta e nel recupero c'è una volata sulla fascia destra di Cafu. Agostini finisce a terra. Io non ho mai avuto le idee chiare su quell'episodio, ragazzi. Poteva essere fallo, poteva non essere fallo. Ci sono alcune immagini che ti convincono di una cosa, alcune immagini che ti convincono di un'altra. Cross di Cafu, splendido tiro all'incrocio di Serginio, gol, San Siro esplode. E dopo quel Milan-Cagliari 1-0, gol di Serginio, ricominciano i veleni, dichiarazioni, i moggi, tutte le tv e i giornali alleati della Juventus, quindi, insomma, il fuoco di fila riparte. Ma il Milan aveva vinto una partita importante, l'aveva vinta in dieci, l'aveva vinta soffrendo, l'aveva vinta nel tempo di recupero. Il Milan che poi sarebbe rimasto nel suo momento positivo, avrebbe battuto anche Sampdoria, Inter, Atalanta, in quel periodo, anche a inizio marzo. Però la sensazione che mi dava quel Milan era la sensazione di un Milan grandissimo, fortissimo, ma che stesse facendo, perché il Milan era partito male nel 2004-2005, noi avevamo perso in casa col Messina, avevamo perso punti, avevamo pareggiato in casa con Livorno, avevamo perso punti all'inizio ed eravamo costretti ad una grande rimonta, una rimonta fra i veleni. E quel campionato 2004-2005 mi ricordava sempre, l'89-90, mentre lo stavo vivendo, mentre lo stavo vivendo. Nell'89-90 avevamo contro il Napoli di Moci, nel 2004-2005 la Juve di Moci. E nell'89-90 anche lì il Milan era partito male e doveva rimontare, 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 e poi ci fu un calo. 2004-2005, ahimè, rimontare, 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 poi ci fu un calo. Certo, avremmo rimontato meglio se non ci avessero espulso Nesta. Il Milan, fino a dicembre, l'avevano lasciato in pace. Poi, quando il Milan pareggiò in casa della Juve 0-0 dominando, si accorsero che il Milan era un pericolo. E allora, dopo la sosta natalizia, espulsione di Nesta contro Lecce, rigore ultranetto di Amelia su Shevchenko e Livorno-Milan negato, gol di Dorasola all'incrocio dei pali annullato, e anche Pancaro espulso per una banale doppia munizione in Milan-Caglia. E ci dicevano poi che noi facevamo le cose meravigliose. Però, io sono andato su questo tema solo per ricordarvi quel Milan-Cagliari. Quel Milan-Cagliari, sofferto, acre, duro, era un Cagliari allenato da Arrigoni, aveva Iezzo in porta, aveva in panchina giocatori importanti come David Suazzo, che poi il Milan aveva sperato di prendere nell'estate del 2007, ma, come accadde per il no di Vialli, poi arrivò Van Basten, ci fu il no di Suazzo, ma arrivò Pato e alla fine andò meglio, con tutto rispetto per il giocatore del Cagliari, lo storico giocatore del Cagliari, andò meglio con Alessandro e Pato. Quel Milan-Cagliari fu una grande liberazione, un grandissimo gol, peraltro, di Serginio. Sergio fece un gol fantastico, un gol di rara coordinazione, di rara bellezza, però polemiche per Cafu. Venne espulso Agostini, giocatore del Cagliari, per proteste dopo il gol convalidato di Serginio, e polemiche a non finire. Ma intanto avevamo battuto il Cagliari, che è una cosa, evidentemente, che anche domani, in un modo o nell'altro, con massimo rispetto per il Cagliari, dobbiamo cercare di fare, dobbiamo provarci, e poi vedremo che cosa accadrà sul campo. Ciao a tutti, ci vediamo, ci sentiamo da Milanello dopo la conferenza stampa del nostro relatore.